ciao a tutti eccoci qua ben ritrovati amici per il nostro trentesimo video ultimamente la frequenza di caricamento dei video è stata un po' più diluita nel tempo però contiamo di riprendere più velocemente con un ritmo più costante questi nostri video allora oggi vi voglio parlare di come cominciare a manipolare i file ognuno di voi saprà già che un file è una struttura che permette di archiviare i dati permanentemente quando noi abbiamo fatto tutti i nostri programmi e ve ne sarete accorti abbiamo lavorato nelle variabili quindi abbiamo lavorato nella memoria ram e quando abbiamo chiuso il nostro programma tutto il lavoro che avevamo fatto è andato perduto quando noi vogliamo invece conservare i nostri dati dobbiamo ricorrere all'utilizzo dei file quindi quello che inseriamo quello che elaboriamo può essere memorizzato in maniera permanente su un harddisco su qualsiasi dispositivo di memoria di massa una pendrive e così via ma dobbiamo appunto affrontare questo argomento dobbiamo imparare a costruire i nostri file quindi a memorizzare al loro interno le informazioni ed eventualmente poi anche dobbiamo essere capaci di reperirle perché memorizzarle va bene ma poi se rimangono lì abbandonate in effetti non servono a niente allora andiamo nella nostra cartella di lavoro e andiamo ad aprire la nostra base vediamo un po da dove cominciare allora bisogna dire che i file voi li conoscete già il fatto di vedere questa cartella implica l'esistenza di alcuni file di tipo diverso naturalmente il tipo lo riconosciamo dalle estensioni questo qui è un banalissimo file di testo che poi quello che costruiremo noi questo qui è un filmato e così via e questo è il nostro programma sul cui lavoreremo e questo è il video che sto registrando in questo momento poi sono delle cartelle all'interno delle quali ci sono altri file ma alla fine se noi pensiamo al nostro computer e al suo utilizzo quotidiano tutto quello che noi facciamo non è altro che manipolare in continuazione dei file bene vediamo come possiamo costruircene uno tutto nostro ne faremo uno molto semplice ripeto un documento di testo quello che noi potremmo creare tranquillamente con il blocco note notepad praticamente e quindi sarà il risultato sarà contenuto in un file di questo tipo cancelliamo questo qui per poter utilizzare i file abbiamo bisogno di quali di una libreria nuova premetto una cosa i file con il linguaggio ci si possono creare in tanti modi diversi e noi ne scegliamo uno eventualmente se avremo occasione di affrontarne qualcun altro di me di questi metodi ben venga però ripeto il ci è un linguaggio tanto vasto ci sono tantissime librerie e molte moltissime operazioni si possono fare in più modi non li possiamo affrontare tutti ne guardiamo qualcuno poi ognuno sceglie quello che più gli si aggrada allora abbiamo bisogno della usiamo la libreria string perché adesso useremo qualche stringa quindi andiamo ad includere la libreria string e poi abbiamo bisogno di una libreria che contenga le funzioni utili a gestire i file questa libreria si chiama f stream se ci fate caso ne abbiamo anche io stream che è la libreria che contiene funzione di input output e la cosa bella del linguaggio c è che il linguaggio ci tratta tutto come se fosse un file quindi anche l'input output anche i dati che arrivano dalla testiera o i stampanti vengono trattati dal linguaggio c come se fossero dei file adesso ne andiamo proprio nella nella libreria che si occupa dei file e che si chiama f stream cioè file stream flusso per i file string io stream penso che non avremo bisogno di con io e di standard lib per questo esempio allora using namespace standard ok passiamo alla parte principale quindi al nostro programma principale int main e andiamo a vedere che cosa dobbiamo mettere nel nostro programma abbiamo il blocco e naturalmente sta parentesi superflua perché ce l'abbiamo già qui sotto allora faremo un file banalissimo dove archivieremo un cognome e un nome separati da virgola perché separati da virgola perché diciamo che in effetti vorrei un attimo dare un po di nazioni un file in effetti un file è composto è composto da una serie di le chiamerei banalmente righe ma almeno nel caso del file sequenziale sono elementi di registrazione che vengono dette record ogni record però assolta ogni record è diviso in una serie di campi quindi diciamo i campi si chiamano field field sal plurale all'interno del file ora facciamo un esempio pratico supponiamo di archiviare le informazioni anagrafiche di un cittadino allora noi avremo rossi mario non c'è bisogno dello spazio data di nascita 1978 0802 data di nascita la metto in formato americano perché c'è un motivo ben preciso per cui le date americane sono così il fatto di ottenere automaticamente un ordinamento crescendo decrescente se le mettiamo nell'ordine inverso come siamo abituati a usarle noi questo ordinamento non è più così banale e poi che ne so possiamo mettere la città del luogo di nascita milano e possiamo mettere il la residenza attuale como ok in effetti se ci fate caso se scrivesse un altro elemento quindi un altro record che questa è una riga il mio file di continuo una riga ora scrivo un altro elemento tripoli marianna data di nascita 1988 0501 quindi primo maggio del 1988 luogo di nascita a lugano luogo di residenza monza perfetto abbiamo aggiunto un nuovo record quindi ogni riga di questa struttura di questa struttura costituisce viene chiamata record elemento di registrazione ogni struttura del genere è composta da una serie di campi quali sono i campi ai campi bisogna o si può dare un nome e i campi in questione sono il cognome il nome la data di nascita data nascita luogo nascita e residenza questa qui la chiameremo riga di intestazione dove non ci sono dei veri e propri dati ma ci sono i nomi che diamo ai campi questa riga può essere presente oppure no poi dipende dalla struttura del file dipende dal prodotto che stiamo realizzando dipende dall'ambiente con cui stiamo lavorando e quindi per me indicarvela significa solo farvi capire che noi abbiamo dei campi omogenei cioè per ogni riga quindi per ogni record noi avremo i dati messi esattamente in questo ordine prima il cognome poi il nome poi la data di nascita quello di nascita ho scritto non scritto nascita scritta di nascita e così via la virgola è un optionale che ho voluto aggiungere io potrebbe esserci non potrebbe esserci il separatore tra un campo e un altro potrebbe esistere oppure no i campi potrebbe essere lunghezza fissa oppure no adesso andiamo in un ambito completamente diverso e quindi non ci dilunghiamo troppo allora io voglio realizzare un file che contenga semplicemente un cognome un nome quindi dichiaro all'interno della della mia main oppure anche all'esterno ma io la main ce l'avevo già qui ho scritto una cosa inutile oggi sono un po di satto allora possiamo usare delle variabili praticamente dei variabili tipo stringa tanto scriveremo cognome nome una la chiamiamo cognome l'altra la chiameremo nome e poi dichiareremo una terza variabile la chiamiamo proprio record da non ce lo impedisce nessuno per mettere insieme il cognome nome e registrare la singola riga e ricordate che io ho detto che mi farebbe piacere inserire anche una virgola di separazione tra il cognome il nome dopo aver dichiarato queste stringhe faccio semplicemente l'input come l'ho fatto sempre quindi un messaggio per l'utente per far capire che cosa deve fare inserisci inserisci il cognome cognome facciamo spazzetto poi adesso non vi spiego subito perché altrimenti il video diventa troppo lungo userò una nuova istruzione di input invece di usare la cin userò la get line che è una funzione che richiede il parametro cin comunque per far capire che tipo di lettura voglio fare e da dove in questo caso dalla tastiera con il nome della variabile che conterrà il valore che arriva dal flusso di input in questo caso la tastiera poi inserisco anche il nome inserisci il nome e con la stessa get line però stavolta nella variabile nome vado ad inserire quello che metto dalla tastiera bene adesso mi manca questo è quello che voi conoscete già adesso faccio una cosa più carina mi costruisco la riga che voglio memorizzare quindi questa riga fatta così io ho solo cognome e nome e quindi mi costruisco la riga farò una concatenazione di stringhe cioè unirò le due stringhe cognome e nome più una virgola quindi mi basterà scrivere record è uguale cognome più tra il cognome e il nome voglio inserire una virgola quindi virgola senza spazio più nome se io avessi voluto qui avrei potuto mettere due punti avrei potuto mettere un cancelletto uno spazio qualsiasi cosa io potessi desiderare però l'ho fatto così perché sto creando in effetti un file di tipo csv un file che è compatibile in teoria potrebbe essere importato anche in un programma come excel o in molti altri programmi quindi la virgola fa da separatore di ogni campo fa capire dove finisce un campo e dove comincia l'altro campo all'interno di un record io so che nella mia riga il cognome finisce qui perché c'è una virgola il nome finisce qui perché c'è una virgola e così via è una separatura ok quindi abbiamo record ma adesso normalmente fino ad oggi avremmo visualizzato il valore di record sullo schermo adesso invece noi vogliamo memorizzarlo all'interno di un file allora dobbiamo costruirci e dichiarare la struttura del file per dichiarare il file noi abbiamo la libreria a disposizione fstream che contiene gli strumenti necessari attenzione attenzione in questo momento noi stiamo solo scrivendo il file non ci stiamo preoccupando di leggerlo quindi stiamo producendo un output verso l'hard disk noi andiamo a scrivere dalla tastiera input e a scaricare il nostro output sull'hard disk quindi stiamo creando un flusso di output in questo caso questo flusso lo indichiamo con ofstream output file stream dobbiamo dare un nome a questo flusso attenzione noi abbiamo due tipi di nomi voi sapete che ogni file all'interno della cartella ha un nome e questo è il nome fisico cioè come noi lo troviamo sul nostro disco vedete questi sono dei file che hanno dei nomi questi sono dei file scusate questi sono dei file che hanno dei nomi ogni file ha un nome perfetto queste sono tutte le lezioni precedenti quindi abbiamo un nome da dare al file quando verrà memorizzato sull'hard disk e abbiamo un nome da dare al file all'interno del programma questo ultimo nome lo chiameremo nome logico cioè come identifichiamo il flusso all'interno del programma per comodità nostra perché è scomodo da indicarlo sempre con il nome esterno e poi dobbiamo decidere come lo vogliamo chiamare quando lo memorizzeremo sull'hard disk quindi in una determinata cartella allora io all'interno del mio programma lo chiamo quindi ho dichiarato un flusso che conterrà dei dati che andranno a scaricarsi sull'hard disk che si chiama file nuovo ora i file sono una struttura un po' particolare per poterli utilizzare bisogna aprirli aprire un file significa rendere disponibile il loro contenuto e caricarlo nella memoria ram perché noi lavoriamo sempre nella memoria ram facciamo le nostre modifiche e poi salviamo anche quello che sto facendo io qui questo programma base.cpp non è salvato c'è questo asterisco nel momento in cui io sto lavorando sto lavorando in memoria ram se io premessi ctrl s adesso lo salverei l'asterisco qui è sparito significa che l'attuale contenuto di questo file è andato a registrarsi sull'hard disk con il nome base.cpp ora se io faccio un'altra piccola modifica vedete ricompare l'asterisco e mi sta dicendo di nuovo attenzione guarda che stai lavorando in memoria ram ma non è ancora salvato sull'hard disk quindi il nome file nuovo è quello che noi utilizziamo per lavorare in memoria ram poi dobbiamo decidere come si chiamerà sul disco quindi lo apriamo rendiamo il suo contenuto disponibile in memoria ram e per aprire un file si fa così io indicherò file nuovo punto open open significa apri file nuovo con che nome lo voglio aprire cioè come lo trovo sull'hard disk o come lo salvo sull'hard disk allora come lo vogliamo chiamare elenco chiamiamo elenco elenco gli metto l'estensione txt in modo che io nella cartella in cui c'è il programma in cui sto lavorando farò uscire un file si chiama elenco punto txt attenzione non basta dire solo questo ma bisogna dire anche in che modo lo voglio aprire questo ve lo spiegherò fra 5 minuti al momento accontentatevi del fatto che io scrivo ios due punti due punti out ios sta per input output stream e questa è la modalità con cui lo voglio aprire perché io posso desiderare di fare alcune cose con il file posso desiderare di voler scrivere quindi lo apro in modalità output nel senso che quello che ho scritto alla tastiera lo scarico sull'hard disk quindi l'output non è il monitor è il file sull'hard disk lo posso aprire in input quindi in dovrei cambiare qui e questo lo useremo quando dobbiamo leggere dal file non quando dobbiamo scrivere noi adesso stiamo creando dei valori da scrivere nel file e poi c'è un'altra modalità ve la faccio vedere fra qualche minuto perché è molto importante allora a questo punto in file nuovo vado a trasferire quello che ho in record vi ricordate che quando facevamo questo su cout lo facciamo qua vedete? vedete le frecce di direzione cout è un file solo che invece di essere un file che è presente sull'hard disk è un flusso che arriva sul monitor e la stessa cosa succede qui questo flusso di dati non andrà sul monitor ma andrà in un file sul disco ma la logica è esattamente la stessa mettiamo un invio quindi un ritorno a capo nel file altrimenti poi il prossimo record risulterebbe attaccato al primo cioè invece di fare una riga che va a capo e torna all'inizio poi si attaccherebbe a tutti i record uno dietro l'altro e una volta che abbiamo fatto una nostra operazione di scrittura dobbiamo chiudere il file quindi il file nuovo deve essere chiuso punto close e finisce qui la nostra operazione ricapitoliamo ho inserito dei valori nelle variabili cognome e nome le ho concatenate ho concatenato cognome e nome più una virgola e mezzo creando un'unica singa questa singa la vado a scrivere in un file che prima devo aprire scarico quello che ho nella singa nel file e chiudo il file vediamo se funziona allora getch mi richiede mi richiede perché mi dà errore su getch abbiamo expected dopo file nuovo vabbè getch in questo momento non ci serve forse ci manca qualche libreria abbiamo punto e virgola dov'è che vuole il punto e virgola eccolo qua abbiamo dimenticato il punto e virgola abbiamo fatto l'errore da pivellini perfetto allora faccio partire il programma e mi chiede inserisci il cognome io metto rossi rossi mi dice inserisci il nome scrivo Mario il programma è finito vado a vedere nella mia cartella vedete si è creato un file che si chiama elenco.txt come avevamo desiderato noi il nome fisico il nome con cui lo dovevamo memorizzare sull'hard disk andiamo ad aprirlo e troviamo rossi virgola mario così come volevamo rilancio il programma e scrivo busi aldo ok vado ad aprire di nuovo il file nella mia cartella e trovo busi aldo ecco però rossi mario è sparito e naturalmente questo è solo un esempio per farvi capire e non sarebbe molto utile perdere quello che avevamo inserito prima e distruggere poi ogni volta e ricominciare da capo quindi avremo sempre l'ultimo nome inserito in effetti questo succede perché io ho aperto il file in questa modalità la modalità output quando apriamo il file in modalità output il file viene distrutto e viene rigenerato ex novo se invece vogliamo semplicemente aggiungere dei valori al file non dobbiamo aprirlo più in output dobbiamo aprirlo in modalità append append sta proprio per dire appendi quello che inserisci a quello che già c'è quindi aggiunge ai valori esistenti il nuovo valore allora proviamo vedete noi abbiamo il file adesso lo cancello di nuovo e riprovo control devo salvare devo compilare ed eseguo il programma allora rossi rossi mario va bene andiamo a vedere nel file che si è creato e ha scritto rossi mario adesso eseguo di nuovo il programma e faccio busi aldo saldo chiudo vado a vedere in elenco adesso c'è il primo record e c'è il secondo record quindi da questo momento in poi io sto appendendo quindi aggiungendo al file e non perdo più i contenuti posso continuare ancora ad inserire nomi che ne so tozzi umberto umberto perfetto ecco qua il nostro file è completo di tutti e tre i valori bene questo era solo era solo l'antipasso per quanto riguarda i file abbiamo imparato a scrivere dei valori in un file poi la prossima volta andremo avanti su questo argomento in maniera più avanzata io per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti